Buon pomeriggio a tutti, un saluto particolare al Presidente Tonti, all'Avvocato Giordano e a tutti gli industriali della provincia di Pesururbino. È un momento complicato per la vita del nostro Paese, di certo avevamo bisogno di tutto tranne che dell'instabilità di governo, speriamo di uscire presto da questa situazione e soprattutto ne abbiamo bisogno di stabilità perché finalmente dopo tanti anni si è rivisto il segno più nel prodotto interno lordo, si è rivisto il segno più nella crescita dell'occupazione ma sappiamo che ancora questi dati non sono sufficienti e quindi abbiamo bisogno di una politica economica differente. Innanzitutto una politica economica differente da parte dell'Europa che deve spingere maggiormente gli investimenti ad abbandonare gradualmente la politica dell'austerità, abbiamo bisogno che il piano Juncker diventi effettivamente operativo, abbiamo bisogno di un'Europa meno legata alla burocrazia e più legata alle esigenze delle imprese, alle esigenze delle famiglie e di conseguenza al rilancio degli investimenti e dei consumi in tutto il continente europeo. Così come abbiamo bisogno di proseguire le politiche di investimenti in Italia, ci sono novità importanti nell'ultima legge di bilancio rispetto all'industria 4.0, ai superammortamenti che saranno una spinta importante per tante imprese, così come abbiamo una spinta molto forte sugli investimenti pubblici per le periferie urbane, per i comuni, per tutti coloro che in questi anni hanno cercato in maniera determinata di rilanciare gli investimenti sui territori. Così come ci sono novità importanti sulla pressione fiscale, che è ancora troppo alta in Italia ma che negli ultimi anni ha visto un costante calo, un graduale calo delle imposte nazionali. Dentro questo scenario ci siamo noi, c'è la nostra provincia, che è una di quelle che è stata colpita maggiormente dalla crisi economica perché da noi non c'è economia pubblica, da noi c'è la vostra economia, ci sono le vostre imprese, la ricchezza che avete prodotto, il lavoro che avete prodotto ed essendo legati in gran parte alla manifattura e più di altre realtà del nostro paese abbiamo subito gli effetti della crisi. Però grazie alla vostra tenacia, grazie alla vostra tigna, come spesso e volentieri cerco di descrivere le caratteristiche dei pesaresi, finalmente dei segnali positivi ci sono, soprattutto nel settore della meccanica, anche il mobile comincia a rialzare la testa e anche in settori che sembravano scomparci, come quello della cantieristica navale, abbiamo dei segnali positivi, penso soltanto alla ripartenza del cantiere navale di Pesaro. Noi stiamo cercando di fare la nostra parte, intanto provando a riequilibrare un po' l'economia della nostra città e di conseguenza del nostro territorio. Rimarremo una realtà prettamente manifatturiera, però vogliamo crescere sul turismo e nei servizi. Per questo abbiamo lavorato negli ultimi anni per avere una città più vivace, più attrattiva dal punto di vista turistico e in grado di comunicare meglio, perché chi non comunica non esiste e la comunicazione è un elemento essenziale della competitività di un territorio. E al tempo stesso abbiamo cercato di concentrarci sugli investimenti locali. Come avete visto ci sono un po' meno buche in giro per la città, ci sono tanti interventi sulle scuole, sulle ciclabili, sugli impianti sportivi. Tra l'altro quest'anno saremo città europea dello sport. E abbiamo sbloccato circa 30 milioni di investimenti, in parte realizzati, in parti che si realizzeranno nel 2017, perché così renderemo la nostra città più bella, ma al tempo stesso daremo una mano all'economia locale. E inoltre, notizia di questi giorni, il fatto che le opere di società autostrade sono state definitivamente approvate dal Ministero delle Infrastrutture e quindi nei prossimi due o tre anni avremo circa 70 milioni di opere che riguarderanno la nostra città e andranno a migliorare ulteriormente la viabilità del territorio. Infine, pare, si sia conclusa questa telenovela dell'ospedale. Sappiamo quanto la sanità sia forse in questo momento il problema principale che abbiamo per la mobilità passiva. La Regione è molto determinata a realizzare il nuovo ospedale e speriamo che anche questa possa essere un'infrastruttura utile alla qualità della vita dei pesaresi e ovviamente di tutti i cittadini di Pesaro, Fano, della provincia di Pesaro Urbino, ma anche questa possa essere un'infrastruttura utile alla ripresa economica. Queste sono alcune delle cose sulle quali stiamo lavorando insieme. Vi voglio ringraziare non solo per come siete riusciti a rialzarvi, per il lavoro che continuate a creare, per l'opportunità di benessere che date a tante famiglie del nostro territorio, ma anche per la grande collaborazione che c'è con le istituzioni locali. Mai come oggi imprese e istituzioni sono legate, imprese, lavoratori e istituzioni sono legate. A livello locale c'è un ottimo clima di collaborazione. Vi ringrazio perché da parte di Confindustria c'è sempre stato un grande apporto, o magari a volte critico, alle iniziative del Comune e alla volontà di far correre questo nostro territorio dopo le difficoltà che abbiamo avuto, ma anche con la determinazione di chissà di essere una grande comunità, di avere grandi valori del fare, un grande valore della solidarietà, che rimangono per noi un punto essenziale di ripartenza. Buon lavoro a tutti noi!